e ragazzi già che ci sono faccio anche il video assaggio del loft energy drink preso il tosano non so che roba siano degassato sembra sciroppo mamma mia è ancora più dolce sarà pieno di caffeina 46 calorie per 100 ml guardate ne bevo perchè sono solo a 1.700 adesso devo tornare a 1.100 e ne ho bevuta un po' meno di metà intanto questo video lo lascio così dopo giù farò un altro video in cui vi dirò se è stato utile o meno adesso faccio anche la seconda parte e la fine del video di loft mamma mia che gusto forte e dolce comunque ragazzi devo dire che la fatica non la sento per niente dopo non so effettivamente quanto effetto abbia fatto questo loft quanto invece abbia fatto l'allenamento che ho in corpo se volete provare un'alternativa più economica la redbull loft fa il caso vostro ovviamente non mi pagano per sta roba ecco ragazzi questo è tutto e al prossimo assaggio grazie grazie grazie